un saluto a tutti ragazzi e benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele ma che bello ragazzi sono contento come un bambino ho appena caricato il video precedente e adesso sono qui a fare il secondo video come promesso e ho visto che c'è stato un iscritto in più al canale ma che bello ragazzi ma quanto sono contento ma quanto sono contento dai va che piano piano cresce grazie tutti ragazzi veramente grazie delle iscrizioni e di guardarmi grazie veramente allora vi ricordate vi avevo fatto vedere questa immagine all'inizio del video precedente adesso andiamo subito a dire qualche cosa prima di tutto ci sono persone che lo fanno con il 3d come vi ho già accennato nell'altro video sta a voi ragazzi io ho optato per questa soluzione ho due amici che hanno il 3d ma non mi interessa nel senso che per fare questo pezzo sinceramente me la sono cavata con due tappi mi sono bevuto due buone bottiglie di vino bianco perché i tappi di plastica vi sconsiglio il sughero perché col tempo secca la plastica plastica e gomma poi non sono di plastica ovviamente la gomma lo fanno di sicuro allora questo evita questo movimento qua al pezzo perché purtroppo ci sono solo due viti che tengono in fondo ed è veramente molto fragile e questo vi risolve il problema come potete vedere ho optato sempre per i tappi così come li ho anche usati nella coscia anche lì poi successivamente ci sono state persone che lo hanno migliorato col 3d a pagamento ovviamente ragazzi perché non è che la gente ve li fa gratis questi invece se volete ve lo fate gratis e anche quello nella coscia che ho fatto che funziona benissimo ve lo fate gratis è una scelta vostra ragazzi ok i soldi ovviamente sono di chi li ha allora andiamo a vedere subito questo pezzo sono due pezzi che ho messo in gomma in questo caso guardate uno due e tre questo è un dischetto vedete cosa succede guardate guardate vedete quanto è gioco figuriamoci quando quando muovo il braccio guardate vedete tende a spezzarsi qua sotto allora mi avete chiesto di fare la modifica vi ringrazio ovviamente Michele lo conoscete lo avrebbe fatta comunque perché insomma è macroscopico il movimento e la possibile rottura perché qua abbiamo soltanto come vi ho appena accennato due perni che vengono tenuti con la vite questa centrale qua una e due e quindi è vero che non ci dobbiamo giocare ma è anche pur vero che si può spaccare si può rompere e non va bene allora io ragazzi adesso vi darei anche due misure però ricordatevi di non fare troppo affidamento a queste misure che vi do adesso per quale motivo perché sono fusioni dovrebbero essere uguali le distanze che abbiamo tra qua e qua e qua e qua e qua questo spazio dovrebbero però io vi do le mie misure però tenete presente che l'occhio è quello che vince su tutto ok quindi se io vi dico che questo ha una misura e voi la fate così la misura e poi lo mettete all'interno e vi cade giù e non va bene dovevate farlo un po più grande ok ragazzi comunque guardate io ho tagliato da un tappo il dischetto dietro questo il primo dischetto l'ho fatto di 3 mm che per i nostri amici americani e inglesi la misura è questa ripeto però voi provate magari va bene anche a voi magari può variare gli altri due pezzi li ho fatti da 25,36 mm sì capisco ragazzi non avete tutti il calibro digitale ma ci mancherebbe adesso fatemi solo finire questo primo pezzo e poi vi spiego anche voi come fare perché il calibro mi è servito a me per dare la misura a voi un'indicazione ma non l'ho tagliati così con il calibro ok vi faccio vedere dopo come ho fatto allora che per i nostri amici americani e inglesi la misura è questa 25,39 e più o meno questo sarà grosso modo uguale vedete 25,71 parliamo di 3,4 mm quindi va benissimo quella misura lì allora andiamo a spegnere il calibro perfetto prima cosa da fare attenzione questo deve rimanere in questa posizione quindi i pezzi che andremo a mettere devono essere perfettamente imbattuta destra e sinistra mi spiego meglio non andiamo a prendere un pezzo più grande questo lo facciamo più lungo e questo fa questo lavoro qui vedete me lo spostate perché va fuori asse dai fuori vedete non è più centrato il braccio poi questo non deve accadere e allora cos'è da fare per non fare errori il primo passo è questo qui mettere questo dischetto fate preciso questo vanno fatti tutti e tre pezzi abbastanza precisi ma questo è il più importante perché non deve essere né troppo che spinge e né che cada dentro subito giù per cui cosa andiamo a fare in questo caso io ve lo dico subito è perfetto 3 mm quando io vado ad inserirlo vedete guardate non so se si nota guardate che non si muove questo spazio qui non si deve muovere ok vedete non si è mosso infatti se noi andiamo a vederlo è perfettamente in centro non vi fidate del perno se storto è regolatevi con le tre viti dentro quando guardate se c'è il centraggio perfetto una due tre devono essere a filo dell'argento le viti comunque lo vedete ragazzi io dico sempre troppe cose che vi complico la vita in questo caso cancellate quello che vi ho appena detto l'importante è che mettendo questo pezzo lo ripeto non deve muoversi la plastica cioè se io vado a mettere uno più grande perché ho sbagliato la misura e questa plastica fa così vedete che si allontana qui non va bene ragazzi non dovete spostarla dovete inserirla in battuta appena appena se si sposta appena appena non è un problema ma mezzo millimetro e andate inserire questo così ok una volta fatto questo prendete il vostro bel tappo lo vedete perché vi dico che il calibro non vi serve lo mettete contro così prendete la penna e lo segnate qua una volta segnato lo mettete diritto perpendicolare al pezzo e controllate perché potreste averlo segnato più corto vedete infatti questo va tagliato più in qua ok prendete il cutter aspettate un attimo che prendo il cutter ecco il nostro bel cutter lo apriamo tutto attenzione alle dita ragazzi mi raccomando e andiamo a tagliare così coincidiamo e poi facciamo girare il tappo leggermente destra e sinistra destra e sinistra finché non arriviamo alla fine ok a questo punto lo controlliamo da una parte e dall'altra qui spinge un po' troppo qui spinge anche un po' troppo non va bene lo tagliamo appena appena ancora un po' ecco qua ragazzi io vi risparmio i tagli vi ho fatto vedere come fare ecco qua vedete lo inserite e lui deve entrare così vedete perché questo vi garantisce che non andate a spingere ulteriormente è ovvio che non deve essere lungo perché andate sennò a spingere questo di qua quindi ragazzi così guardate una volta fatto questo ok cosa facciamo andiamo a vedere che tocca qui e qui che assolutamente non deve toccare vi ricordate i pezzi che ho fatto vedete che sono scanalati ok quindi fate questo lavoro mettete diritto il perno è semplice ragazzi ricordatevi io ve lo faccio vedere in video è più complicato per me ma voi a casa avete tutto il tempo che volete fate un segno qua e fate un segno qua così e così attenzione sempre alle dita mi raccomando guardate questo è il centro vedete qua non tagliate tagliate un centimetro più in qua poi se non basta tagliate ancora un pezzo state attenti alle dita ragazzi state attenti alle dita mi raccomando ok andiamo a controllare va bene a questo punto questo riferimento ci è servito per non andare troppo in avanti col taglio a questo punto andiamo a metterlo qua e andiamo a tagliare il pezzo dietro così deve essere perpendicolare a questo mi raccomando cioè nel senso vedete come questo se io questo lo metto così e taglio e viene storto deve essere messo diritto questo dovete vederlo bene ok ma è di una semplicità ragazzi disarmante ma veramente ve lo dico guardate solo così quanto ci vuole farlo guardate lo provate se non va lo modificate appena appena vedete qui va bene però non deve uscire da qui da qui non deve uscire magari non fa nulla ma io non voglio che esca da qui vi ricordate questi che non escono guardate questi non escono vedete che non escono neanche questo deve uscire quindi andiamo a inserirlo nuovamente all'interno allora guardate tocca non so se si vede tocca appena appena qua sotto qui per capirci su questa plastica qui quindi nessun problema cosa faccio lo metto sopra lo controllo bene e lo vado a modificare ho già visto dove eccolo qua non serve neanche tutta la lunghezza guardate così non va bene lo rimodifico di nuovo appena appena finché mi entra bene andiamo a fare un'altra prova quasi a posto ancora ancora questo pezzo qui dovremmo esserci vediamo un po ecco qua guardate avete visto qui non ci crea problemi quando andremo a fare quest'altro pezzo perché ricordatevi che un pezzo entra qua dentro dell'armatura questo è un maschio che va poi nella femmina però questo si può spostare anche in avanti vedete e quindi è libero qui è libero vedete questo deve essere libero di andare su e giù assolutamente ok abbiamo fatto questo è ovvio ragazzi fate la stessa cosa col tappo dall'altra parte la stessa cosa poi se volete prendete il nastro che vi avevo detto nell'altro video vedete i video sono un po così ragazzi spartani ma quello che conta se può esservi d'aiuto non sono tanto le immagini che sono abbastanza brutte ma sono i contenuti allora questo è un nastro termo estinguente vi spiego dopo cos'è va usato così si mette il primo pezzo dietro ed elettricista ve l'avevo già detto nel primo video mentre lo mettete lo dovete tirare perché lo dovete tirare perché lui entrerà perfettamente o abbastanza perfettamente in questo spazio ok allora tagliamo il primo pezzo che si è staccato mi raccomando deve essere buono il nastro ragazzi non prendete il nastro scadente che non va bene magari lo avete da tanti anni non volete andarlo a comprare e non tiene allora un attimo solo che regolarizzo perfetto eccolo qua madonna siamo già 15 minuti ragazzi per forza per forza devo spiegare tutto è troppo semplice metti la vite qua metti il pezzo là e che ci va ragazzi e abete pazienza poi mi criticate perché i video sono lunghi non lo fate ragazzi su me lo chiedo per favore io lo faccio per quelli che non hanno tanta dimestichezza in queste cose vedete tiro il nastro lui va giù entra negli spazi che ho tagliato ecco qua il fermo qua dietro metto un qualcosa qua sotto perché altrimenti taglio quello sotto e mi raccomando non lo tagliate ma è un fatto estetico questo ragazzi siete obbligati a farlo no assolutamente ma assolutamente tenete presente che questo va nascosto quindi figuratevi eh guardate uno vedete mettiamone un altro non siete assolutissimamente obbligati a farlo parlo del nastro eh questo invece come modifica ve la consiglio poi che sia 3d che sia così fate quello che volete voi ragazzi come vi ho già detto ognuno con le proprie tasche decide cosa è meglio per lui o cosa vuole va bene ragazzi ecco qui ho fatto vedere tutto eh uno solo ovviamente ve ne faccio vedere ragazzi l'altro è uguale quindi fate solo attenzione alla dita ecco qua abbiamo fatto il pezzo vedete guardate ecco qui andiamo a provarlo vedete il pezzo è finito il pezzo è finito adesso come lo fissiamo questo pezzo io vi dico come lo fisso io voi ragazzi fate quello che volete voi io vado a svitarmi prima levo questo eh levate questo prima vado a svitarmi queste due viti qua sotto vedete aspettate questa e questa per capirci le due viti che tengono questo pezzo qui me le vado a svitare tolgo questo pezzo ok questo mi ricordo che era così perfetto allora tolgo questo pezzo prendo il biadesivo che avevo avanzato per chi ha fatto la base premium per chi non l'avesse fatta prendete il biadesivo non prendetelo troppo spesso quelli imbottiti perché poi vi crea uno spessore vi spostano quel pezzo lì e non va bene a questo punto non è servito niente quello che vi ho detto prima ok andiamo a tagliare uno due e tre pezzi ecco qua ve ne faccio vedere uno perché con questi biadesivi si impazzisce sempre ad aprirli la prima pellicola non tanto ma la seconda vediamo ok e da questa parte perfetto andiamo a prendere questo lo andiamo a posizionare qua anzi 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 aspettate un attimo stavo pensando dove metterlo meglio questo abbiamo detto che va lì qua lo mettiamo qua guardate uno qui vediamo questa adesso io ve lo rimonto per voi ragazzi poi devo smontarlo per poi mettere l'altro ok vi faccio vedere questo lo mettiamo così ok questo era messo così perfetto spero di inquadrare tutto bene me lo auguro questo si vede che non mi preparo niente vero ragazzi questo lo mettiamo così aspettate ok perfetto voilà se vi levate il tappo qua dietro adesso una volta smontato è meglio perché così potete fare questo movimento è di aiuta quindi guardate ragazzi facciamo finta che questo non l'avevamo ancora messo nel senso non guardate come lo stavo mettendo perché stavo sbagliando e non va bene levate questo che vi ho appena fatto vedere ok mettete questo qua dentro molto più facile ecco perché ragazzi non importa se sbaglio in diretta preferisco non far sbagliare a voi io andiamo a mettere le nostre due belle vite e chiudiamo una e due perfetto abbiamo quasi finito è mamma mia 20 minuti un altro 20 minuti pensate il tempo che ci metto poi a correggerlo io questo video un'ora tre ore ci vanno ma tre ore davvero allora e andiamo a mettere questo qui per inserirlo è ovvio che se io adesso lo inserissi così vado a togliere il biadesivo che ho messo qui invece lo sposto un po con le dita mando in battuta questo qua sopra faccio scivolare questo dentro questo lo tengo sempre in battuta lo faccio scivolare lo inserisco come deve essere inserito e poi lo lascio e lui si attacca questo impedirà assolutamente al pezzo di staccarsi un giorno non si stacca non lo so se si stacca ragazzi io l'ho fatto faccio questo lavoro qui mentre invece per la testa sfilo questo ok sfilo questo prendo un pezzo di biadesivo quello che ho tagliato prima dei tre pezzi questo è il secondo che mettiamo lo metto qua sotto così stacco il primo pezzo qua anzi secondo ormai ecco qui vedete prendo questo e lo metto a filo qua guardate ok vedete e lo inserisco qua dentro ok perché questo perché se io faccio questo movimento ho lasciato un po largo questo che ho sbagliato questo mi scivola giù mi cade non è servito a niente il lavoro questo mi blocca tutto vedete già così non si muove più guardate non si muove più vedete guardate boh ragazzi e con tutto questo macello che lascio qui in questo video vi saluto vi ringrazio di avermi visualizzato grazie veramente a tutti quelli che mi scrivono anche a quelli che intervengono mi danno dei consigli ah vedete mi sono dimenticato se poi proprio volete che siete pignoli lo potete colorare questo ok il dischetto parlo con un pennarello rosso lo colorate ma ricordatevi che tutto viene coperto va bene ragazzi allora credo di avervi detto tutto sicuramente mi dimentico qualcosa ma figuriamoci se io non mi dimentico qualcosa va bene ragazzi adesso vado a smontarmi tutto perché mi devo mettere l'altro pezzo grazie grazie di cuore mi raccomando non dimenticatevi se avete piacere di iscrivervi al mio canale di attivare anche la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video grazie ragazzi date anche un'occhiata alla playlist e per quelli non italiani c'è ricordatevi che ci sono i tre puntini nel video in alto a destra dove cliccando sopra potrete trovare 26 sottotitoli va bene ragazzi madonna ma quanto è brutta queste immagini ma sì dai ma sì ciao ciao ragazzi ciao un saluto a voi a tutti i vostri cari più cari al prossimo video arrivederci